Allora, buon pomeriggio, benvenuti a tutti. Oggi siamo contenti di iniziare un nuovo capitolo del percorso formativo di Romani Disputazione e lo facciamo con alcune persone che adesso presento brevemente e che ci introdurranno proprio al lavoro che ci attende. Il lavoro è quello di costruire un percorso di orientamento secondo le linee guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito che aiuti gli insegnanti di filosofia e tutti coloro che sono interessati a costruire un percorso di formazione e orientamento che ha una specificità e della cosa che più ci entusiasma è quella di far dialogare direttamente la filosofia con il mondo del lavoro, cercando di trovare davvero il nesso, il senso vero di quello che lega il nostro essere insegnanti, il nostro insegnare a scuola e quello che fanno le persone che adesso andremo a conoscere che per lavoro a vario livello si occupano appunto di aiutare le persone, le aziende e tanti altri enti a integrare le proprie competenze in vista del proprio lavoro ma ce lo diranno loro con più dettaglio e precisione. Io ringrazio Lavoro Più ringrazio Lavoro Più SPA perché ha coraggiosamente scelto di imbarcarsi in questa nuova avventura insieme a noi, speriamo che sia un'avventura felice, la parola felice ha due sensi, gioia e anche adeguatezza e quindi spero che saranno entrambe raggiunte queste due dimensioni. Lascio la parola a Elisa Santi che ringrazio per aver intrapreso fin dall'inizio questo lavoro insieme che ci racconterà che cosa è Lavoro Più e poi darà il via all'ora di dialogo che sarà registrato e quindi sarà poi diffondibile anche ai colleghi per capire di cosa si tratta. Non ho detto il titolo del nostro lavoro ma lo sappiamo tutti perché siamo stati invitati ed è Il Tempo Vola, le competenze restano. È un titolo molto bello perché davvero già dice di questa integrazione tra filosofia e mondo del lavoro. Elisa ti lascio la parola. Grazie Marco, grazie. Buonasera a tutti, vi racconto brevemente chi è Lavoro Più che non so quanti di voi la conoscono, è un'agenzia per il lavoro che ha capitale interamente italiano e da oltre 25 anni abbiamo festeggiato il nostro compleanno ieri, mette al centro le persone e le loro capacità. Lavoro Più esiste dal 1997 e ha come obiettivo quello di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro. Il nostro obiettivo, quello che si concretizza ogni giorno è quello di cercare di orientare in maniera responsabile le decisioni dei candidati, valorizzandone inclinazioni, attitudini, naturalmente come ho detto prima in risposta a quelle che sono le esigenze del mercato del lavoro. Ad oggi abbiamo più di 100 sedi, siamo in ben 10 regioni e siamo presenti all'estero, nel Regno Unito, in Spagna, Brasile, Hong Kong con il marchio Più. Ci piace darvi anche qualche numero, abbiamo raggiunto i 700 dipendenti o professionisti, come ci piace pensarci, esperti nel mondo delle risorse umane. Se Giulia va avanti, continua a dare i numeri dicendovi che abbiamo una caratteristica in realtà abbastanza tipica del settore delle risorse umane che è quella di essere ben al 74% donne. Lavoro Più è un'azienda rosa e dei numeri insoliti che ci teniamo molto a farvi presente riguardano 600 alberi che abbiamo piantato in giro per il mondo nel 2020 e 1.600 alveari che Lavoro Più dal 2021 ha in adozione. Quindi oltre a quello che è il nostro business in senso stretto, insomma ci piace farci conoscere anche per l'impegno, per il mondo e per la natura, insomma, e tutti i temi adesso connessi. Credo che molti di voi si chiederanno come mai un'agenzia per il lavoro ha deciso di collaborare su questo bellissimo progetto, un progetto che ci è piaciuto subito tantissimo, in cui abbiamo creduto da subito e perché abbiamo deciso di collaborare? Abbiamo deciso di collaborare perché crediamo nel valore e nella forza delle parole, nella capacità e nell'importanza di sapere argomentare, di comunicare, esprimendo conoscenze, competenze, opinioni e idee. Crediamo nell'importanza di ascoltare, rispettare chi non la pensa come noi e che sia importante mettersi in discussione, rivedere le proprie idee del tutto o anche solo in parte. Sappiamo che la lingua cambia, si evolve così come si evolvono i pensieri e si evolvono anche le idee e come agenzia per il lavoro siamo abituati e vogliamo seguire, e lo facciamo continuamente, quelli che sono i cambiamenti del mercato del lavoro. Vogliamo seguire il cambiamento delle esigenze, dei driver e delle aspettative sempre nuove dei candidati. Come possiamo capire e intercettare tutto questo se non teniamo al centro le parole e se non crediamo nella potenza e nella forza delle parole? Le parole servono per esprimere ed esprimersi, per essere ascoltate, raccolte e solo in questo modo crediamo di poter essere in grado di orientare i giovani e orientare le linee del futuro. Ecco perché abbiamo deciso di collaborare con questo progetto. Lascio la parola ora ai miei colleghi, che lascio presentare a loro la parola. Grazie. Grazie Elisa. Grazie Elisa. Vado, parto io velocissima, poi lascio la palla a Giulia e Filippo. Mi presento, poi ci rincontriamo fra qualche minuto e sono Valentina Orlandi e sono in lavoro più da un po' di anni in realtà, quasi sette anni e all'interno di lavoro più sono all'interno dell'Ufficio Risorso Umane. Quindi all'interno dell'Ufficio Risorso Umane mi occupo, insieme a Giulia, di tutta quella che è la parte legata alla gestione dei talenti interni. Ci ritroviamo molto, diciamo, negli incontri che faremo perché noi quotidianamente parliamo internamente di formazione interna. Il nostro compito è divulgare quella che è una cultura della formazione e dello sviluppo di competenze all'interno dell'azienda, quindi ci sembra che questo ciclo di webinar possa ben sposarsi con quella che è un po' la nostra mission anche all'interno dell'organizzazione. Grazie Valentina. Io sono Giulia Felicato, come diceva Valentina, noi lavoriamo assieme nell'Ufficio del Personale, anche mio di formazione e sviluppo. Una particolarità di quello che faccio sicuramente è il focus sulle risorse in entrata, quindi con una seniorice, una azionità aziendale abbastanza ridotta, che coincide in realtà per noi con persone molto giovani, perché il nostro target è appunto prevalentemente quello di ragazzi e ragazze neolaureati, neolaureate, che molto spesso hanno poche esperienze lavorative, si approcciano alla nostra azienda come prima azienda che possa permettere loro di costruire un profilo professionale completo, spendibile di Nampo. Anche per questo insomma per noi è interessantissimo poterci rivolgere agli studenti, alle studentesse che avranno modo di assistere ai nostri webinar, perché sono proprio le persone con cui molto probabilmente avremo a che fare negli immediati anni successivi, nel momento in cui entreranno nel mercato del lavoro. Grazie Giulia, buonasera a tutti, io mi chiamo Filippo Darchini e ho qualche annetto di anzianità in lavoro più UNES, sono qui dal 2011, mi sono occupato di selezione di figure di diversa estrazione professionale, quindi partendo da figure più operative fino a figure white collar e dirigenziali. Da qualche anno mi occupo prevalentemente di formazione, quindi ho avuto occasione anche di partecipare a diversi percorsi di orientamento in diversi istituti superiori, ma anche universitari e mi occupo anche di talent acquisition, quindi continuo ad avere diciamo una prospettiva anche su quello che è il mondo della selezione, però con un focus esclusivo su figure destinate all'inserimento nel nostro organico interno. Quindi diciamo che l'accompagnamento ai candidati per me è sempre stato un'azione di valore sia per quanto riguarda il business ovviamente legato all'azienda, sia per quanto riguarda diciamo il supporto allo sviluppo di carriera dei candidati, quindi continuare ad affiancarli per cercare di capire quale potrebbe essere diciamo la rispendibilità migliore per il proprio talento, quanto riguarda il proprio profilo sostanzialmente. Grazie Filippo. Inizio io con raccontarvi in linea di massima quello che è la nostra proposta formativa, come vi diceva Marco, abbiamo l'ambizione sicuramente importante di offrire un percorso di orientamento appunto rivolto a studenti e studentesse del triennio delle scuole superiori con la finalità di integrare quella che è la riflessione filosofica con gli attuali scenari del mercato del lavoro e della formazione. Lo faremo mediante tre incontri a tema passato, presente e futuro, in ognuno dei quali avremo l'occasione di affiancare dei docenti universitari e offrendo però agli studenti e alle studentesse quella che è la nostra conoscenza del mercato del lavoro e offrendo allo stesso tempo loro degli spunti speriamo utili per il loro sviluppo personale e professionale. Il primo degli incontri che riguarda il passato l'abbiamo chiamato vita longa curriculum brevis, la persona oltre curriculum vite e in questo incontro saremo accompagnati da Riccardo Fanciullacci, docente di filosofia morale presso l'Università degli Studi di Bergamo. Il tema, come vi dicevo, è il passato ma abbiamo scelto di individuare un chirurgio nella nostra comunicazione che è quello delle competenze. Il tema delle competenze quest'anno è importante perché è stato proprio decretato l'anno europeo delle competenze, questo 2023 è una campagna di sensibilizzazione in realtà che mira a promuovere lo sviluppo di conoscenze, abilità e attitudini per affrontare le sfide personali e professionali della vita, quindi in realtà con un fine ancora più ambizioso che quello di incoraggiare le persone a investire nell'apprendimento permanente, tematiche che a noi, come diceva Valentina prima, stanno appunto molto a cuore. Per quanto riguarda nello specifico questo modulo, analizzare il passato ci porta sicuramente a chiederci da dove arriviamo e quali sono appunto le esperienze e le competenze da mettere in luce nell'incontro con l'altro. L'altro può essere il recruiter, può essere il futuro datore di lavoro, può essere il futuro collega. È un tema che spesse volte nei momenti in cui abbiamo avuto modo di relazionarsi con gli studenti e le studentesse, sia degli istituti delle scuole superiori, sia poi del mondo universitario, è quello di capire come poter costruire un primo curriculum efficace. È chiaro che nel momento in cui ci relazioniamo con un target così giovane, la preoccupazione è quella di non avere delle esperienze lavorative da inserire, da offrire poi in un momento di interazione con il recruiter, proprio perché si viene da anni di formazione obbligatoria e formazione poi universitaria eventualmente. Con questo primo modulo quello che noi vogliamo fare è orientare l'attenzione degli studenti e le studentesse verso l'importanza di costruire un cibo adatto a raccontarsi nell'interezza di chi siamo, quindi non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista delle competenze trasversali che abbiamo sviluppato, sia scolastiche che extrascolastiche e che possono appunto averci portato a maturare delle abilità molto spendibili nel mercato del lavoro per quanto non immediatamente associabili a quello che è, a quanto ci può venire, ci può essere richiesto poi dal futuro datore di lavoro. Quello che faremo quindi è offrire delle indicazioni per raggiungere questo obiettivo, sia nella costruzione del CV che poi nel modo di presentarlo. Questo perché in realtà il nostro ruolo, quando parliamo di ruolo di recruiter, ci richiede di supportare le persone a individuare e poi mettere in luce nel modo giusto il proprio potenziale nel momento in cui affrontano un primo colloquio di lavoro, quindi non soltanto leggere dei CV, fare screening, valutarli e poi proporli, ma riuscire a cogliere la persona dietro il curriculum e riuscire allo stesso tempo a valorizzarla adeguatamente nel momento in cui avrà l'occasione di potersi presentare e raccontare per una eventuale proposta professionale. Non so Marco se ti vengono in mente delle riflessioni che vuoi condividere con noi in merito a questo primo modulo. Quando ne abbiamo parlato mi ha colpito il fatto che spesso noi insegnanti facciamo fatica a comprendere certe dinamiche complesse del mondo del lavoro che voi invece sperimentate quotidianamente e quando abbiamo parlato di passato mi è venuto in mente tutto quel lavoro di scavo che facciamo nel dialogo in classe con i nostri allievi usando i testi, i problemi, i temi che la filosofia ci offre ma che in loro mettono in moto un veramente un ricchissimo percorso di ripescaggio di ciò che si è per loro da quando si è piccoli fino all'adolescenza e pensavo che questo mentre mi raccontavate e ancora adesso lo facevate a chi è collegato c'è un filo diretto tra il lavoro della classe e l'esperienza di vita che i ragazzi poi già adesso nella scelta del post diploma ma poi nel mondo del lavoro dovranno fare e quindi ecco mi piaceva commentare brevemente questa prima slide proprio perché io credo che questo nostro webinar è prezioso questo nostro percorso di webinar è prezioso perché non vuole posticciamente mettere insieme cose che non si legano ma provare a testare quali sono davvero i percorsi che a scuola inneschiamo e che magari con termini diversi voi elaborate con persone magari giovani o adulte nella scelta del loro lavoro e questo io credo sia importante lo penso per me innanzitutto come insegnante nella misura in cui le competenze che io vado a sviluppare nei miei allievi partendo da questa prima slide è la capacità di e la consapevolezza di guardare tutto ciò che sono e di portarlo sul tavolo quando devo compiere una scelta affrontare un problema o una sfida quindi ecco io credo che già parlare di passato mettendo insieme la interrogazione filosofica di che cosa è il mio passato il nostro passato con quello che è il passato di ciascuno di noi quando affronta una scelta o un problema di lavoro ecco già questo secondo me è interessantissimo per la sfida che abbiamo davanti che è quella di aiutare i ragazzi a orientarsi perché noi non orientiamo nessuno ma lasciamo che loro abbiano gli strumenti per farlo mi taccio perché poi prego giulia continua pure la parola valentina che ci presenta il secondo incontro grazie giulia vado col secondo incontro diciamo continuiamo a seguire la linea del tempo immaginaria ci siamo appunto prospettati il secondo incontro sarà focalizzato sul presente e parliamo di giovedì 14 dicembre e anche in questo caso saremo eh supportati eh da una docente di filosofia teoretica che è Alessandro Modugno dell'Università di Genova ehm l'intervento in questo caso avrà eh un'ulteriore diciamo connotazione che eh abbiamo definito nunc stance riconoscere le competenze quindi eh torna un po' il concetto ma vorremmo sviscerarlo eh come dire da un altro punto di vista partiamo vi direi da eh anche qua da un presupposto eh il presente come temporale in cui eh l'individuo è collocato diciamo nel nel qui ed ora e noi parleremo eh ad una platea che oggi nel presente è una platea di studenti e studentesse che afferiscono a una generazione specifica che è la generazione Z eh per noi mh diciamo che quotidianamente abbiamo a che fare con aziende col mercato del lavoro eh vi possiamo assicurare che la generazione Z è di grandissimo interesse per le aziende se non fosse che come mh accennava Giulia all'inizio del diciamo della della presentazione eh la generazione Z è eh diciamo il sono i futuri lavoratori sono i ragazzi e le ragazze che da già da da qualche anno e nei prossimi anni si appresteranno ad entrare nel mercato del lavoro eh per questa ragione già da un po' di anni ci sono numerosi studi di letteratura da economisti eh psicologi sociologi che eh stanno concentrando i loro studi per andare un po' a definire quello che eh quelli che possono essere dei tratti distintivi della generazione Z. Noi diciamo nel eh nel webinar che tratteremo vorremmo concentrarci su quello che è un po' più il nostro mestiere eh e vorremmo andare a definire insieme ai ragazzi e le ragazze quelle che sono le competenze distintive della loro generazione. Tra le varie quelle su cui ci vorremmo concentrare sono quelle che vedete citate agilità tecnologica, pensiero critico, collaborazione, empatia e consapevolezza sociale, flessibilità. Eh una cosa importante non vorremmo eh concentrarci in modo sterile sul concetto di competenza ma il webinar avrà proprio eh l'obiettivo di eh far riflettere gli studenti, le studentesse e speriamo un po' di innescare anche una riflessione in aula eh su due temi dal nostro punto di vista sostanziali. Il primo è la valorizzazione delle competenze individuali quindi eh l'importanza eh che ogni ragazzo ogni ragazza sappia nel corso del tempo autovalutarsi con consapevolezza. Il secondo concetto è quello dell'importanza della formazione continua. Eh diciamo che sapersi autovalutare implica in qualche modo il conoscere e riconoscere le proprie aree di miglioramento e eh un nel momento in cui si riconoscono le aree di miglioramento c'è margine per lo sviluppo attraverso appunto l'apprendimento continuo. Quindi eh vorremmo eh far sì che da da questo webinar possano nascere delle riflessioni in merito al tema della della competenza ma soprattutto dell'autoconsapevolezza e della valorizzazione appunto eh delle delle competenze individuali. Perché ne parliamo diciamo abbiamo deciso di affrontare questo tema? Eh ci tenevamo in questo in questa sede a dirvelo perché eh lavoro più da da anni eh è incentrata su un modello di business un pochino atipico vi direi o comunque abbastanza unico nel suo genere. Eh il nostro modello di business si basa su un concetto che è quello di talent density eh intesa vi direi come densità di talento non da un punto di vista meramente quantitativo ma soprattutto qualitativo. Per noi ogni persona che entra in azienda è un individuo ha ehm ha sicuramente delle competenze, dei tratti, delle inclinazioni che sono inclinazioni e competenze, attitudini da valorizzare. La nostra sfida nel modello di business e la nostra sfida quotidiana è quello di saper riconoscere eh il potenziale che può variare il potenziale di competenze di ognuno nel corso della propria vita professionale e mettere vi direi costantemente la persona giusta, il posto giusto lungo appunto questo percorso professionale che ci auguriamo sempre essere molto lungo all'interno della nostra organizzazione. Quindi abbiamo colto eh l'opportunità attraverso questo webinar di eh sottolineare dei punti che per noi sono veramente dei punti chiave. Marco anche qui non so se se ti viene in mente qualcosa ecco qualche spunto. No mi viene in mente una cosa che riguarda proprio il tempo che stiamo discutendo che in questo secondo webinar eh il presente e rispetto al tema delle competenze ehm filosoficamente mi sembra rilevante investire e sottolineare la centralità dell'attenzione. Cioè il fatto che spesso sia dal punto di vista psicologico e cognitivo ma anche dal punto di vista mh meramente esperienziale ehm la conoscenza di sé eh non è eh dominio dei più eh scaltri o dei più eh diciamo così col cosiddetto intellettivo più alto ma di coloro che sono più attenti e quindi insegnare ai ragazzi che l'attenzione quindi l'essere presenti a se stessi può eh veramente nell'ora nel presente eh dare frutto a ciò che si è e quindi è tutto quel tema che abbiamo visto prima eh di conoscenza di sé ma ecco mi piace molto l'attenzione sulla dimensione dell'attenzione che la filosofia indaga eh Agostino ce la segnala come la la dimensione in cui il presente eh si fa reale per noi e e quindi qui io spero che la professoressa Modugno eh troverà eh delle strade davvero eh persuasive per per mettere eh in collegamento questi due ambiti di riflessione. L'altra cosa che mi colpiva quando mi avete presentato questo modello di business che caratterizza lavoro più come vi dicevo mi ricorda molto la classe. Io oserei dire che come la vostra azienda che si occupa appunto di di lavoro eh valorizza appieno il capitale umano di ciascuno così in ogni classe in ogni attività progetto eh lavoro che si fa nel processo di crescita con i ragazzi c'è c'è dentro la stessa idea e ehm e questo non è non è per niente banale perché eh ripeto dobbiamo ehm intelligentemente costruire quel ponte tra la scuola e il mondo del lavoro che eh ahimè troppo spesso viene slegato come eh improprio ma che invece se se guardato con la intelligenza che c'è propria e invece trova tantissime tanti punti di collegamento che i ragazzi e noi insegnanti negli anti potremmo valorizzare mettere a frutto e quindi eh come dire ottemperare anche alla richiesta contingente che il ministero fa di iniziare un lavoro importante su sull'orientamento e e farlo con la maggiore intelligenza al maggior spettro di profondità possibile. Ecco questo. Grazie. Grazie mille. e lascio a Filippo per il terzo incontro così finiamo la carrellata. Grazie Vale. Allora terzo incontro appunto il futuro per cui arriviamo diciamo in coda quello che eh che è il percorso eh in questo caso avremo ventiquattro gennaio la professoressa Annalisa Caputo e sostanzialmente il futuro è un tema che non può che essere caro una società come la nostra perché comunque eh si parlava prima di valorizzazione del capitale umano quindi non si può che parlare di crescita non si può che parlare di di progresso ed effettivamente penso che volendo scomodare un po' le scienze sociali eh riprendiamo un po' quell'assunto che vuole che il progresso sia un po' risultato di cambiamento più confronto no quindi eh il futuro è possibile soltanto grazie alla curiosità soltanto grazie alla capacità di disnescare quella quella paura no nei confronti del cambiamento che poi diventa appunto vettore per il raggiungimento di un miglioramento no che che punta al futuro di fatto per noi è fondamentale riuscire ad affidarci a quella che è la la voglia di crescere dei ragazzi della nuova forza lavoro di coloro che andranno a sostituire alla nuova eh che diventeranno la nuova classe dirigenziale a tutti i livelli insomma per cui avendo una prospettiva privilegiata sul mondo del lavoro non possiamo che riscontrare che c'è una grande eh diciamo che è proprio un presente magmatico no che sta appuntando a qualcosa di differente agli ultimi anni ci hanno introdotto in un mondo in cui la cultura del lavoro è veramente cambiata con una rapidità impressionante altissime realtà insomma hanno dovuto fare i conti con la necessità di adeguarsi a quelle che sono le nuove quelli che sono i nuovi standard insomma a livello di cultura del lavoro per noi quindi eh l'obiettivo è cercare di agevolare questa apertura al cambiamento eh per quanto riguardano i nostri referenti aziendali per quanto riguarda eh il capitale umano appunto per quanto riguarda quelli che diventeranno i lavoratori del futuro il punto è che eh prima si parlava di orientamento eh per noi accompagnare verso questo eh futuro le future generazioni appunto diventa un must diventa un obiettivo diventa insomma una ragione di vita in qualche modo infatti non si può definire il futuro come un punto ma come un qualche cosa da come dire per seguire in continuazione si parla di miglioramento continuo quando si parla di Kaiser no e questa è una filosofia che noi abbiamo abbracciato proprio perché crediamo che eh non non si possa mai dire siamo arrivati questo non vuol dire che dobbiamo puntare a qualche tipo di come dire voglia di potere semplicemente crediamo che il cambiamento debba portare a questa ricerca del miglioramento continuo sul cui miglioramento continuo passa attraverso tutta una serie di strumenti di idee che sono frutto della eh della modernità insomma della voglia di guardare sempre sempre oltre quindi in sostanza è proprio il nostro obiettivo cercare di accompagnare verso il futuro appunto le nuove leve il capitale umano mi ripeto per noi diventa risorsa centrale quindi non possiamo che tutelarlo in un qualche modo per consentirne la crescita questo po' credo la sintesi no di quello che può essere chiaro che ho cercato di dare un taglio magari un pochino più eh teorico perché di fatto il futuro è qualcosa di sconosciuto quindi non si può che approcciare con con ipotesi che però credo si possono poi tramutare incertezze nel momento in cui vediamo che questa crescita è accompagnata dal fatto lui lascio anche in questo caso te la parola se posso avere innescato diciamo una qualche riflessione da parte tua no anche qui mi piace pensare che il tema per come eh approcciato da dalla vostra realtà poi dialoga tantissimo eh con il lavoro quotidiano dell'insegnamento della filosofia nelle classi liceali perché lì eh nel percorso che facciamo con Romani Disputazione perché insegniamo ai ragazzi a mettere in discussione idee precostituite e quando pensiamo al futuro spesso lo facciamo con immagini stereotipate quelle di progresso di successo e quindi eh ragionare sul passato sul presente e sul futuro come apertura curiosità disponibilità mi sembra che sia interessantissimo perché poi filosoficamente eh chiede di provare a definire che cos'è il desiderio dell'uomo che nel giovane è aperto a tutte le possibilità e che nell'uomo che cresce che diventa maturo e che inizia a fare un percorso più più preciso poi va va a spingersi oltre e e a dialoga con un'altra parola che per la filosofia è potente che è felicità e quindi mi piaceva quando abbiamo dialogato e dialogheremo nel webinar di questo eh con la professoressa Caputo mettere in questione tutto l'umano eh non solo trovare strategie necessarie e giuste per eh appunto attraversare un mercato del lavoro in continuo cambiamento che è la sfida che poi si avrà davanti quando i ragazzi usciranno dall'università ma per farlo con lo sguardo intero della domanda che la filosofia ci ci pone su chi sono io cosa desidero e che concetto ho di felicità e e quindi immagino dai racconti che farete e che dagli esempi che ci porrete eh potremo aiutare i nostri ragazzi eh a guardare al futuro come a a un'aspirazione a un esercizio del desiderio diceva la professoressa Müller eh parlando di di che cos'è il nostro tempo in attesa del futuro che viene un esercizio del desiderio eh e e questi non sono diciamo così eh vagheggiamenti filosofici sono il tessuto stesso dell'esperienza dell'uomo e e io penso che richiamare a vicenda voi a noi e noi con voi tutte queste dimensioni eh sia interessantissimo eh anche perché altrimenti lasceremmo noi insegnanti a degli specialisti del lavoro di dire che cos'è la natura umana e dimenticheremmo di ricordare a voi che siete bravissimi e hai fatto un lavoro utilissimo e preziosissimo che i nostri studi le nostre conoscenze le discipline che insegniamo a scuola hanno ardito definire che cos'è l'umano e alle romani disputazioni non giochiamo mai leggeri giochiamo sempre eh pesanti del bello del nostro percorso per cui davvero io credo che lavorare insieme sull'orientamento eh tra filosofia e mondo del lavoro eh non è un gioco ma è fare davvero il nostro mestiere eh noi da insegnanti e voi come appunto professionisti che si occupano di aiutare le persone a a fare il proprio percorso e quindi anche essere felici in ultima istanza e quindi questo è un mio commento a adesso so che c'è ancora un passaggio che ci raccontate ultimo passaggio eh chiudo io ma giusto per darvi ehm diciamo la la chiusa finale rispetto a il il ciclo completo che ci siamo immaginate nelle nelle ultime settimane e insieme a Marco insomma quando abbiamo pensato eh al nostro contributo ci siamo immaginati appunto i tre momenti che vi abbiamo descritto quindi eh webinar di un'ora eh in cui sviscereremo i i temi che vi abbiamo appena citato ma anche a chiusura diciamo di di questo ciclo di webinar eh due workshop in presenza eh le e diciamo gli istituti li andremo a individuare in un secondo momento eh per noi workshop in una parola anzi in qualche parola significa ehm riuscire a creare un'esperienza eh in cui gli studenti le studentesse si mettono in gioco su eh diciamo una tematica da noi preparata e riescano in qualche modo a restituirci eh dei ragionamenti delle progettualità legate a quella tematica specifica in questa fase non spoileriamo diciamo il tema che che ci siamo immaginati perché vorremmo arrivare eh diciamo a chiusura prima di ehm di darvi ovviamente quello che è il il progetto che vorremmo far sviluppare ai ragazzi e alle ragazze ovviamente i macro temi sono questi quindi non usciremo da di molto da quello di cui poi ci occupiamo quotidianamente e in diciamo in ultima istanza vorremmo anche specificarvi che oltre i due workshop in presenza visto che sappiamo che gli istituti coinvolti saranno moltissimi quindi non riusciremo ad essere in tutti gli istituti e ci impegneremo a creare un modello di intervento replicabile nelle vostre classi quindi un modello eh in qualche modo da restituire a ognuno eh di voi professori in modo tale da in qualche modo darvi eh uno strumento per ragionare eh con con le vostre classi sul tema specifico che prepariamo quindi ehm ci piaceva ecco lasciarvi eh a a conclusione di un percorso teorico in realtà anche un task pratico da poter sviluppare insieme insieme alle vostre classi. Chiudiamo in questo modo Marco non so se se rispetto a questo anche avevi eh uno spunto. No la cosa che dicevi adesso eh la ripeto brevemente perché è un punto desiderabilissimo per chi oggi nella scuola è chiamato a fare il docente tutor e il docente orientatore cioè avere uno strumento che nascerà da un'esperienza e che quindi affineremo dopo i due workshop nelle due scuole che andremo a selezionare e qui ehm offriremo a tutte le scuole che lo richiederanno la possibilità di eh candidarsi a essere eh ospitare il workshop e fatti due workshop poi metteremo eh appunto come diceva Valentina eh per iscritto delle linee guida che permettono di fare esperienze di classe guidate dall'insegnante illuminati dai contenuti che riceveremo nei tre webinar e e così favorire un percorso eh per orientamento che che ripeto hm ha come cuore quello di eh tentare un lavoro che raramente viene fatto che io credo sia il nostro compito da insegnanti che è quello di eh dialogare col mondo fuori dalla scuola e e di farlo con persone brave, competenti eh e disponibili e e io anche con Elisa, Valentina e poi Giulia e Filippo ci siamo ci siamo riconosciuti eh ad oggi ci sono quattrocentocinquanta ragazzi già iscritti con una trentina di insegnanti speriamo di raggiungere anche altri colleghi ovviamente continueremo a a proporci la possibilità di iscriversi e partecipare al percorso fino alla fine perché poi le video lezioni saranno fruibili eh gratuitamente eh i tre webinar saranno fruibili gratuitamente per tutti quindi potranno anche essere usati in orari diversi da quelli in cui noi li abbiamo fissati in diretta in diretta sarà possibile avere un momento di dialogo di domande al termine di ogni webinar però chi non potrà partecipare in perché in quell'ora non in classe oppure perché ci sono altre attività potrà usarlo in differita in asincrono e sono curiosissimo di vedere come andrà perché è una sfida nuova ma mi sembra che le le basi siano positivissime perché ognuno sta facendo penso al meglio il suo il suo lavoro e quindi eh sicuramente una cosa bella direi che abbiamo fino alle sei per eventuali domande chiarimenti mh riflessioni dei di chi è presente quindi vi invito chi vuole a smutarsi e proviamo a rispondere e anche a correggere il tiro insieme in base a quello che che chi è presente vuole vuole provare a chiedere o raccontare posso dire la mia certo allora intanto vi presento sono la docente di filosofia e storia del liceo scientifico Marconi di Parma accendo la luce perché vedo io seguivo ma non ho acceso la luce della mia perché mi bastava ma a questo punto allora eh io ho due classi che ho inserito nel percorso e devo dire che eh sono ragazzi che seguono le romane disputazioni se anche nell'ambito del della tematica sul tempo però essendo docente tutor docente eh attiva anche nei vari percorsi di PCTO devo dire che questo percorso che ehm Marco ha messo in evidenza per me era calzante per il modo di approcciare la filosofia che è prettamente in sintonia con la metodologia delle romane disputazioni e quindi ringrazio per questo innanzitutto ehm mi farebbe piacere cioè se ci sarà la possibilità di avervi nella mia scuola sono sarei felicissima ecco questo lo dico già a priori e mi candido per questo se c'è la possibilità ecco di di avervi in diretta perché i miei studenti seguiranno il percorso e un percorso che viene affrontato in classe sia dal punto del lavoro sia dal punto di vista della tematica ecco un po' l'approccio alla vita ecco lavorativa la vita scolastica e il nostro modo di concepire il rapporto con la realtà quindi eh io sono felice di questa possibilità che raghezze hanno innanzitutto di rapportarsi con l'ambiente universitario dal momento che ci sono docenti universitario ma anche quello di lavoro più perché vedo che ci sono delle giovani leve e anche a femminile che questo non è da poco che possano eh indirizzare i nostri studenti a riflettere su come approcciarsi al mondo del lavoro in una eh come dire in una quotidianità che non è sicuramente mh mh come dire lineare abbastanza complessa e loro devono proprio districarsi approcciare il mondo del lavoro ehm senza lasciarsi sfuggire nulla ecco soprattutto partendo da alcune loro competenze che hanno maturato nel percorso liceale coadiuati sicuramente dagli insegnanti ma grazie anche alle loro capacità tutto qui grazie Teresa eh grazie Teresa visto che hai fatto la prima domanda ti metteremo in lista prioritaria per le scuole ok se ci fossero anche colleghi collegati che eh hanno già provato a immaginare nella loro scuola di percorsi di orientamento eh che volessero provare a a capire come diciamo così eh armonizzare le diverse attività sarebbe interessante anche perché è un mondo nuovo per tutta la scuola italiana non solo per questo progetto in sé quindi stiamo proprio Alessandra Meroni può smutarsi? Eccomi eh mi sentite? Sì allora io avevo una domanda perché chiaramente eh vabbè l'orientamento non è in realtà una novità è una cosa che arriva da lontano e comincia per noi con l'inserimento dell'alternanza scuola lavoro la PCTO ma era già partito prima comunque è una cosa di cui ci si è sempre occupati e eh sicuramente il percorso la proposta è molto interessante eh perché può coniugare davvero può fa può creare un ponte fra quella che è la disciplina umanistica e le gli aspetti tecnici e tecnologici io seguo una un istituto tecnico che ha anche il liceo delle scienze applicate quindi una situazione un po' diversa e tra l'altro poi io sono del settore scientifico per cui con la filosofia in realtà poi mi muovo molto poco eh però una cosa una riflessione e una domanda che vi faccio il tema del curriculum vita è un tema che viene affrontato a diversi livelli eh sicuramente si comincia un pochino ad accennare ai ragazzi nelle terze ma poi le possibilità di discussione sul tema eh si fanno sempre più intense in quarta e in quinta e quindi la domanda la sfida vera secondo me poi in realtà non è soltanto un po' quello che dicevate anche voi ma la sfida vera è quella di parlare ai ragazzi di questo tema e parlare con loro portandoli su un livello sempre diverso man mano che camminano e vanno avanti quindi questo è questa è la mia domanda come pensate in qualche modo di impostare questa attività perché immagino che avrete di fronte degli interlocutori molto differenti a secondo delle scuole che vi chiedono di intervenire cioè io adesso sto pensando e sto ragionando in termini di quarte classi quarte liceo che sono un po' in un punto di passaggio cioè non sono ancora non sono più così sorprese da tutte queste iniziative come lo erano in terza e cominciano a premere per arrivare in quinta ma non sono ancora pronti per l'uscita quindi vi immagino davanti a degli interlocutori molto variegati e quindi la difficoltà di non ripetersi anche rispetto ad altri ad altre agenzie non è non è una sfida semplice quindi questo mi interessava capire come lo gestiva come avresti gestito la cosa se posso vale da una risposta ma allora diciamo che l'idea è quella di uscire dal dogma per cui il curriculum va fatto in una certa maniera in un certo formato in un certo ordine in termini di contenuti ed esperienze perché questo appunto è ridondante cioè viene viene fatto ed affrontato a diversi livelli in diversi contesti quello che riprendendo il tema futuro mi piacerebbe condividere con i ragazzi in sede di orientamento è come è cambiata la cultura anche nella redazione del documento cioè esistono ancora dei luoghi comuni ancorati al passato a un retaggio che deve essere superato come la foto va messa a tutti i costi la data di nascita va messa a tutti i costi cioè certe cose che appartengono effettivamente a un passato remoto che deve diventare realmente tale e sono sempre di più le situazioni in cui ci si pone ci si confronta magari con quel datore di lavoro un po' a G che dice ma come non mi metti la foto ma come non c'è la data di nascita ma questo anche rivolgendosi a dei consulenti come noi quindi noi ovviamente andiamo a condividere un curriculum a prescindere da quella che può essere la posizione anagrafica o altro e vorremmo appunto che ai ragazzi fosse chiaro che è loro diritto rivendicare la scelta del non mettere certe cose ok perché la cultura del mondo del lavoro porta lì quindi davvero cioè loro come testimonial di una transizione culturale anche da questo punto di vista quindi curriculum è una fotografia del proprio percorso professionale ma non sterile cioè deve parlare deve trasmettere anche un po' quella che può essere la scelta di chi lo redige io parlo di me in una certa maniera e il modo che scelgo passa anche da queste decisioni quindi da queste accortezze o comunque da queste volute mancanze ecco se riesco a spiegarmi questo può essere un esempio dopo è chiaro che se il ragazzo chiede ma è meglio questo formato è meglio quell'altro insomma noi tutti i giorni vediamo dei curriculum quindi possiamo anche dare delle indicazioni a livello strategico però mi piacerebbe che il focus restasse diciamo sulla sull'approccio culturale per cui credo che questo possa essere un buon piano per poter poi impostare una una discussione insomma un confronto con con la platea ecco non so se ho risposto almeno in parte sì sì diciamo la valorizzazione dell'originalità con un occhio quella che è stata la storia e un'attenzione a quelle che poi in realtà sono le richieste attuali ecco un po di questo genere esatto quello che posso aggiungere alessandra un altro punto di vista secondo noi interessante che avendo quest'occhio sul mercato come noi abbiamo insomma relazionandoci con aziende con candidati è che sempre di più eh il curriculum va rivisitato proprio perché il mondo del lavoro richiede eh se diversificate mentre eh anni fa il mercato del lavoro richiedeva prevalentemente competenze tecniche e solo su queste o prevalentemente su queste si basava la decisione poi di inserire questa persona nel contesto lavorativo oggi sempre di più le aziende si concentrano su altri elementi che come dicevo un po prima nel racconto di del del webinar sul passato fanno sempre più riferimento a quello che è la persona nella sua interezza e competenze trasversali come la flessibilità l'apertura del cambiamento ehm l'orientamento alla formazione non fanno parte di quelle che sono le competenze immediatamente eh diciamo visibili eh se le associamo a a dei percorsi di studi ma fanno riferimento a delle esperienze di vita a delle esperienze extra lavorative extra scolastiche a degli interessi a delle passioni e sempre di più questo è importante valorizzarlo e capita eh in realtà ancora raramente o comunque non eh nella misura diciamo che è sarebbe necessaria per quanto viene richiesto di trasmettere ragazze e ragazze questo cioè che certi elementi sono fondamentali da inserire nel curriculum molto spesso a noi ci è capitato di fare degli interventi a scuola degli interventi nelle università e anche all'università eh i ragazzi e le ragazze nonostante avessero passioni avessero esperienze di lavoro in gruppo avessero esperienze di volontariato non sapessero poi che effettivamente questi sono elementi importanti per un dottore di lavoro perché molto spesso le competenze tecniche si acquisiscono si acquisiscono con un approccio alla formazione da parte dell'azienda che è sempre di più importante le competenze trasversali insieme e invece fanno proprio da base e da terreno fertile poi per andare insomma a piantare dei semini per le aziende importanti. Mi aggiungo la domanda della professoressa Meroni perché anche io in questi anni quando vedevo i nostri allievi a scuola scrivere i loro CV eh molti dicono ma io non so fare niente non ho esperienze non ho competenze e quindi andremo nella direzione di capire le cioè che quello che diceva adesso tu Giulia e anche un po' Filippo è che nel CV devo essere attento e consapevole dei di la mia interezza e quindi fino fino a dove poi adesso non voglio spoilerare i contenuti del primo webinar però eh mi sarebbe sapere fino fino a dove oggi voi pensate dal vostro punto di vista del di esperti di mondo del lavoro che uno si può spingere a raccontare di sé mi mi ha colpito e scusate se sono intervenuto. Marco ti provo diciamo a dar seguito un po' la tua il tuo spunto senza spoilerare ma aggiungendo un pezzo a quanto ci stiamo dicendo ehm perché il concetto di raccontare soprattutto per ragazzi e ragazze così giovani dove ci immaginiamo che non ci siano tanti percorsi professionali ma più esperienze appunto extra lavorative e scusate extra scolastiche un un tema ad esempio per noi importantissimo soprattutto le nuove generazioni ci stiamo accorgendo anche quello del sapersi raccontare quindi andare anche oltre il curriculum cioè importantissimo scrivere quella pagina quella quattro importantissimo focalizzarsi appunto su eh come diceva Giulia le competenze trasversali su andare oltre un'identità un po' vintage del del curriculum ancora più importante per i ragazzi e le ragazze di oggi che si presteranno domani al primo eh diciamo colloquio con un datore di lavoro sarà fare allenamento su raccontarsi eh perché mh e questo sarà anche un punto che vorremmo stimolare con la nostra riflessione eh perché ci rendiamo conto che molte volte eh torna anche un po' il concetto di autovalutazione di percezione di sé eh per i ragazzi magari è difficile no parlare di sé non c'è ancora forse quella consapevolezza non c'è ancora forse eh quella comprensione di di alla fine anche le competenze acquisite ad esempio in un percorso eh di studi che sono tantissime quindi vorremmo provare a unire tutti questi questi pezzettini ecco parlandosi di curriculum ma fino a un certo punto non so come dire non non ci immaginiamo il format del CV da completare ma ci immaginiamo eh lasciare ragazze e le ragazze una riflessione importante su quanto quel documento in realtà sia un valore aggiunto se loro padroneggiano i contenuti di di quel documento e sono in grado appunto di trasferirvi all'amico al genitore e domani a al professore e domani al datore di lavoro quindi anche mh questo secondo step del del sapersi raccontare ecco per noi diventa veramente importantissimo perché è già un biglietto da visita oltre il curriculum ecco si aggiungo una cosa Marco eh capita molto spesso eh quello che quello che che dicevi no cioè comunque mi recco in una classe magari in una quarta oddio mi chiedi che cosa eh vorrò fare non lo so ed è più che legittimo non sapere che cosa si vorrà fare o che cosa si vorrà essere dopo gli studi specie superiori però appunto il cosa so cosa so fare o non fare cosa so essere diventa un po' una base sulla quale poter costruire poi una fotografia di sé cioè magari proprio io non so che cosa voglio fare ma molto probabilmente in funzione di quello che so di non saper fare so che cosa non vorrò essere non so se se mi spiego cioè il punto è ho delle caratteristiche personali che mi permettono di aspirare a un certo ruolo ho una passione magari ho una un'attitudine allora so che quella qualità personale unita a questa attitudine potrebbe magari generare un percorso ok quindi è proprio partire da zero e molto spesso è anche partire dal cosa non so fare che ci permette poi di costruire un un percorso di orientamento e di presa di coscienza diciamo così come molto è molto interessante grazie al confronto e anche questo in questo caso ritorno al confronto eh capire insieme ai ragazzi come fare per dar loro fiducia anche no nell'individuare quel qualcosa che magari lì per lì ancora non sanno insomma qui il legame con la filosofia è potentissimo perché il so di non sapere di Socrate che avete ben presente anche nelle slide che avete citato penso sia il motivo per cui io da filosofo dico sempre ai miei ragazzi voi siete più fortunati perché troverete lavoro se siete attenti e perché questo secondo me ehm anche per i docenti di scuole non non licei con le romane abbiamo avuto esperienza di moduli didattici di filosofia che è possibile lo dico perché se interessa poi si può fare e anche nei tecnici. Sì la classe liceo scientifico delle scienze applicate ha seguito l'anno scorso gli studenti che erano interessati hanno seguito le romane di sfruttazione nel nostro e si è aggregato alla vostra esperienza. Anche anche i tecnici professionali dove fare perché se questo è eh un lavoro metacognitivo di forse di sé che la filosofia fa per sua natura ma quello che ha detto Filippo Darchini in risposta a quello che si diceva prima mi piace molto perché ehm appunto mette in gioco anche in chiave positiva eh quelle che possono sembrare delle mancanze che soffocano eh ma competenze digitali non sono in grado di e ma magari allora proprio lì che scatta la voglia di mettersi in gioco e Ok quindi trovare un argomento forte per poi mettere in gioco anche i ragazzi del tecnico. Sì sì. Se c'è qualcun altro che vuole intervenire abbiamo ancora qualche momento. Scusa Marco ciao. Margherita. Margherita. Sì ciao Roma. Velocissimo ma avete già detto molto voi negli ultimi interventi era appunto per portare il tema delle non cognitive skill no? Che non si usa no? Non lo usiamo insegnanti non lo usano i ragazzi non sanno usarlo e il curriculum in senso canonico o old style insomma fa un altro lavoro quindi è un'avventura estremamente interessante ma chiudo perché siete stati già molto. Magherita io ti conosco ma se ti presenti aiuti anche i colleghi a capire da che punto di vista lo dici e anche pensando magari a quale prospettive di lavoro? Ma io dico solo che vabbè io sono dirigente scolastico in pensione da un anno e ho lavorato con studenti dei tecnici e dei professionali e il tema delle non cognitive skill o comunque dell'attitudine dello studente più che sa leggere sa scrivere sa fare ma è proprio la questione che dicevate prima che magari normalmente nella scuola non non si usa perché si esce con la pagella col voto no? Ecco avete fatto un percorso culturale che è leggermente diverso e dibaricato rispetto al tema del voto no? Che è il classico la classica richiesta che fanno gli insegnanti o i genitori. Se tu invece ti accosti all'esperienza aziendale si aprono degli orizzonti completamente diversi tanto che magari uno studente che scolasticamente non è neanche magari brillante messo in contesto lavorativo supera assolutamente perché ha trovato la quadra quindi qui si apre un tema assolutamente affascinante però va bene era solo uno spunto. Grazie anche perché sentiva della valutazione di questi aspetti. Assolutamente. Per chi insegna lo dico ai colleghi di lavoro più è un tema spinosissimo. Assolutamente. Grazie. Grazie Margherita. Elisa cosa dici? Siamo alle... Ma io continuo a ribadire l'entusiasmo per questo progetto. Ho grosse aspettative di questo nuovo connubio nuovo. Io personalmente non ci avevo mai pensato e filosofia e mondo del lavoro sono sono molto orgogliosa di questa di questa opportunità e spero che i ragazzi la sappiano apprezzare quanto l'abbiamo apprezzata noi. Poi tu Marco sai che io sono figlia e nipote di filosofi quindi qualcosa nella genetica ci sarà. Divido interamente e mi permetto magari Elisa di fare un ringraziamento per concludere questo momento che è solo un momento di lancio di presentazione e continueremo a proporlo a tutti i colleghi, agli orientatori, ai nuovi docenti orientatori delle nostre scuole. Invito anche i presenti a farlo nella misura in cui è una pista inedita quella che stiamo tentando cioè di esplicitare stando ognuno nel reame delle sue competenze però di di dare veramente carne a a una richiesta del ministero che io penso giusta per i tempi in cui viviamo che molti ahimè nella scuola a volte sentono come ve lo dicevano quando abbiamo iniziato a pensare a questo progetto posticcia magari appiccicata a volte che toglie ore alle lezioni e io penso che se ottemperando alla richiesta che il ministero ci fa di attivare per questo evidentemente lo facciamo al meglio per bene ne trarremo tutti veramente grande grande beneficio e e io per questo anche io vi ringrazio pubblicamente perché poi ovviamente dai dai frutti si si riconosce l'albero ma da da quello che ho visto già come inizio mi sembra che aprire anche solo un dialogo tra insegnanti e persone che lavorano come voi in questo ambito ci 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 da tanta consapevolezza che a volte ci manca perché a parte chi ne ha esperienza ecco credo sia un arricchimento per tutti per i ragazzi che faranno il percorso ma soprattutto per chi noi insegnanti eh lavorano nella scuola e confrontandosi con voi in modo aperto e eh proficuone sarà davvero bello ecco per per noi per tutti per cui anche io ringrazio a nome di amore per il sapere dell'omani spettazioni lavoro più sì ecco diciamo che ho avuto la fortuna di aver trovato dei colleghi e non è una sviolinata i miei colleghi lo sanno che io sono molto diretta nel bene e nel male però ho anche la fortuna e questo credo che rientri nelle talent density di cui hanno parlato le colleghe e i colleghi anche Filippo ehm ho la fortuna di avere dei colleghi che ci mettono tanta energia tanta testa tanta volontà tanto entusiasmo e devo dire che loro e anche qualche collega che non è presente che è stato coinvolto sono stati subito pieni di entusiasmo per questo progetto ci hanno messo tanto tempo tanta energia pur essendo murati di lavoro però insomma ho promesso che mi mi sdebiterò con qualcosa di ludico Elisa in conclusione volevo chiederti il il titolo geniale il tempo vola legato al tema del tempo che stiamo affrontando nelle romane e le competenze restano eh di di Filippo o di qualche altro collega non presente lasciamo i crediti ad Antonio Saracino esatto che non c'è marketing che non c'è che ci dà e ci darà una mano preziosa per poi la preparazione diciamo anche grafica dei contenuti perché sappiamo che sempre di più anche la la parte di come i contenuti vengono mostrati insomma farà fa la differenza Antonio insomma ci ci dà e ci darà supporto su questo è il collega dietro le quinte che non si vede molto prezioso molto molto prezioso conferma dove è che troviamo chiedo scusa questi materiali per poterne raccontare ai colleghi brava i materiali dell'incontro di oggi per la per diffondere la questione li trovate sul sito di romani sputazioni sul sito di amore per il sapere immagino anche sul sito di lavoro più e se non è così melisa poi ci questo faccio una verifica io ma allora secondo me c'è però faccio una verifica sui canali social di amore per il sapere romani sputazioni e lavoro più e c'è perché stamattina l'ho fatto visionare già i miei studenti e ne ho parlato con loro quindi il materiale già presente proprio nel sito di lavoro perfetto io davvero sono sembra di stare in consiglio di classe di colleghi che si conoscono da tanto tempo sarà bello anche suggerirci e lo chiedo alle colleghe e ai colleghi presenti intendo del mondo della scuola per come dire correggere oppure aggiungere o modificare il tiro di un percorso che stiamo costruendo proprio quest'anno insieme per la prima volta e io credo anche molto nei workshop che ci proporremo penso ragionevolmente a fine febbraio inizio marzo perché poi lavorare su quello che avremo ascoltato e appreso nei tre webinar nel lavoro di classe o della scuola interclasse sarà preziosissimo perché è quello che ci è chiesto e quello che secondo me i ragazzi anche attendono cioè di essere aiutati con gli strumenti precisi ed efficaci a capire di più chi sono quali sono i loro desideri le loro passioni come diceva Filippo prima l'immagine di sé che che intendono verificare perseguire e anche realizzare quindi io ecco lo dico in diretta poi possiamo anche chiudere perché avevamo detto un'ora sono eh invito ovviamente eh tutti e in particolar modo Elisa Valentina Giulia e Filippo il venti ventuno marzo al Duse a Bologna dove ci saranno tanti dei ragazzi che avranno spero deciso di fare con noi questo percorso anche di orientamento oltre che di sfida filosofica e quindi vedremo ne vedremo delle belle. Grazie per l'invito. Grazie. Dai. Grazie a tutti. Grazie. Grazie mille.